Ma tu credi che essere così bella ti dia il potere di ottenere tutto quello che vuoi? Magari puoi aiutarti a sedurre qualche dirigente che per portarti a letto ti va a passare le audizioni, ma credimi, finisci lì, eh? Perché la bellezza che la danza esprime non ha niente a che vedere con la bella faccia o le gambe le umbe. È qualcosa che nasce dall'anima e che richiede fatica, disciplina, passione. Ma probabilmente tu non capisci neanche quello che io sto dicendo. Non è così. Magari non sono brava ad esprimerlo, ma la danza è l'unica cosa a cui tengo veramente. Ed è l'unica cosa che mi fa sentire che c'è qualcosa di buono anche in me. Non solo nel corpo di ballatici di privato. Perché sarò la sovretta. Immagino che tu l'abbia fatto per merito di questo. Almeno c'è qualcuno che me ne riconosce. Se non ti va bene come mi comporto, perché non vai a chiedere aiuto a lui? Eh? Lui di certo è un'altra fase quattro per te. Oh. 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 Non voglio diventare come te. Ma tu non sei come lei. E diventare chi vuoi tu. Che cosa credo? Che io ho bisogno di te, certe dei miei nomi? Anch'io piaccio! E darò più bella di te! Perché stai a chi? Solo per portarmi a letto, così? Il problema è che tu hai preso una tua età, però non ero la stessa. Ti vergogni di me? Su quello? No. Ti penso da arrabbiare. C'è tanto altro che vorrei dire che se ne lascio a te. E io ho bisogno di qualcuno che crede in me. Se tu ti ho detto di te stesso, sono piccoli passaggi. E io ci danno che tu, e di me lo ce l'hai.